L'acqua è un bene di tutti. Non lasciare che venga trasformata in una merce qualsiasi. Con il referendum del 12 e 13 giugno, votando sì, potrai restituire l'acqua alla collettività. È follia permettere che l'acqua del rubinetto diventi un prodotto industriale. Perché veder crescere il costo della nostra bolletta a beneficio dei gruppi privati senza che essi siano tenuti ad investire né a garantire la qualità del servizio idrico. Con la legge voluta dal governo Berlusconi, stanno mettendo le mani sull'acqua senza alcuna certezza per il futuro. Noi c'è pure Gesù Cristo, dare da bere agli assetati, non è che diceva se hanno i soldi. Il voto del 12 e 13 giugno ci permette finalmente di dire la nostra. Abbiamo una possibilità per fermarli, l'ultima, affinché i nostri figli possano disporre liberamente di un elemento naturale indispensabile. L'acqua è un nostro diritto. come l'aria. Difendiamola. Il 12 e 13 giugno, ai referendum, votiamo sì.